Con Giovanni Giuseppe Pesce qui dal porto di Ischia, dal tuo osservatorio, come è andato questo weekend sull'isola dal punto di vista turistico? Diciamo che dal punto di vista turistico non è che c'è stato chissà quanti turisti, c'erano gli alberghi che stanno aperti, automaticamente dovevano essere pieni, però poi ci sono state parecchie di sdette, quindi non è che c'è stato chissà che. E' stato un Natale, anche questo condizionato dall'emergenza sanitaria, tanti i controlli in giro, dal punto di vista dei controlli ne avete visti voi? Come? Diciamo da quando ne ho visti un po' dappertutto, l'altra sera io e gli altri miei amici, colleghi, addirittura sugli autobus, la polizia stava sugli autobus, investi loro, i carabinieri, no no, pure con la divisa, sì, i carabinieri, i guardi di finanza, c'erano controlli dovunque, sotto i traghetti, agli scafi, addirittura anche gli addetti e gli agli scafi e i traghetti fanno i controlli con il Green Pass. Grazie. Grazie.